ciao a tutti e ben ritrovati è da un po' che volevo fare un video riguardante i problemi che ci sono sulla ricezione del gps e eventuali disturbi provenienti dall'elettronica del drone stesso e anche disturbi sulla sulla bussola avevo intenzione di farli con il mio mini 250 autocostruito ma come sapete tutti quanti si è rotto pensavo fosse il motore ma purtroppo era l'esca e quindi ho dovuto ordinare quello nuovo intanto vi faccio vedere alcune alcuni test che ho fatto durante il suo utilizzo come vedete da queste immagini appena viene dato gas e si muovono i motori man mano che si accelera si hanno dei disturbi sulla sul gps dei veri e propri glitch che possono portare per esempio a posizioni errate ad un tracking ritardato o a spostamenti repentini della posizione fino ad una completa perdita del numero di satelliti non crediate che solamente i droni autocostruiti hanno questo problema anche i droni commerciali in particolare quelli più piccolini dove le distanze sono ristrette fra i vari componenti hanno soffrono di questa problematica sia questa problematica che anche quella della della bussola e quindi sono veramente difficili da ricercare i disturbi di tipo elettromagnetico che perché possono provenire da diverse fonti ad esempio dall'alimentazione o dagli segnali diciamo quelli digitali che possono essere appunto l'equadro c oppure la comunicazione seriale o possono provenire dalla vicinanza di antenne trasmittenti quindi che cosa si cerca di fare si cerca di mettere in pratica diverse soluzioni che possono essere dalla schermatura di tutto ciò che può produrre diciamo emissioni elettromagnetiche come i cavi come la strumentazione elettronica in genere oppure si cerca di twistare quindi di girare di incrociare di avvolgere i cavi fra di loro in particolare quelli dei segnali e quelli dell'alimentazione e purtroppo nei droni piccolini non si possono utilizzare altre tecniche come quelle di inserire i cavi all'interno di toroidi però si cerca addirittura di allontanare per esempio il gps la bussola dalle dagli altri componenti elettronici vediamo da queste immagini qualche tentativo di schermatura proprio per ovviare a queste problematiche in questo video che vedete qui scorrere osservate come è stato utilizzato un oscilloscopio che misura appunto i volt istantanei per osservare ciò che accade quando un conduttore trasferisce energia ad un altro conduttore ed appunto si si parla di conduzione elettromagnetica e vedremo infatti come attivando il motore di un drone alimentato da una batteria e quindi è da un ESC vedremo come utilizzando l'oscilloscopio si genera una sorta di disturbo lo si osserva proprio in termini di millivolt che è lo stesso disturbo che poi viene trasportato ad altri componenti come possono essere il flight controller o il gps o la bussola ce ne sono ovviamente alcuni più perché ne risentono molto di più di questa problematica e passando la sonda dell'oscilloscopio si osserva come addirittura c'è un'energia di circa 250 millivolt passando prima attraverso l'ESC e poi sui cavi che portano la tensione per alimentare l'ESC vediamo come invece diminuendo la sezione quindi twistando i cavi e diminuendo la superficie effettiva del conduttore in realtà si diminuiscono anche le problematiche di conduzione elettrica tra un conduttore e l'altro addirittura si può fare un esperimento per vedere quanta energia effettivamente produce questo effetto elettromagnetico inserendo dei dei led che vengono semplicemente accesi da un coil quindi da una serie di avvolgimenti appoggiati proprio sul sui conduttori che portano la corrente al all'ESC e quindi che fanno girare il motore addirittura si accendono i led e si osserva come ci vuole circa 1,68 volt la tensione che viene creata semplicemente perché il coil quindi l'avvolgimento si trova appoggiato sui sui conduttori a questo punto prendiamo una schedina semplice che comunica con il flight controller in i quadro c e vediamo quello che accade in potrebbe essere benissimo il nostro gps vediamo quello che accade alla comunicazione i quadro c vi ricordo che la comunicazione i quadro c deve tenere una dimensione dei picchi appunto che sono equivalenti alla comunicazione di un determinato voltaggio se questi escono e che corrispondono a 0 ed 1 se questi picchi escono al di fuori del range di del protocollo i quadro c possono essere interpretati in maniera differente e quindi significa che possono essere anche dei valori errati e nell'ultima parte del video si osserva anche come utilizzando una superficie ramata o una superficie in ogni caso di ad esempio di carta stagnola è possibile bloccare quasi completamente il problema dell'elettromagnetismo e quindi della conduzione elettromagnetica da un conduttore ad un'altra ecco perché è importante utilizzare un qualche materiale con resistenza a zero e per schermare e per eliminare completamente il problema del disturbi elettromagnetici ed è per questo che esistono dei materiali che permettono di riflettere in questo caso le radiazioni elettromagnetiche avvolgendo ad esempio i cavi o creando delle schermature intorno alle apparecchiature elettriche oppure esistono dei materiali assorbenti che assorbono le radiofrequenze nel caso in cui non sia effettivamente un elettromagnetismo che dà problemi in un elettromagnetismo indotto dal passaggio di corrente ma effettivamente delle frequenze troppo vicine o delle spurie di frequenze da un trasmettitore per esempio a 2 gigahertz e 4 che può in qualche modo dare una sottoportante dare un disturbo alle frequenze del del gps stesso insomma ci sono varie problematiche che possono portare a non far andare il gps quindi cerchiamo in qualche modo di bloccarle quando riavrò di nuovo il drone piccolino farò qualche test ulteriore bene penso sia tutto e vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti